Un confronto a sei con l'obiettivo di far conoscere ai biscegliesi i programmi dei sei candidati sindaci per le amministrative di giugno. L'incontro organizzato da E-Pass Onlus a pochi giorni dalla presentazione delle liste e delle candidature ha visto i sei aspiranti sindaci Enzo Amendolaggine, Angelo Antonio Angarano, Gianni Casella, Vittorio Fata, Franco Napoletano e Tonio Spina rispondere alle domande dei cittadini nell'auditorium Don Pierino Arceri. I temi trattati legati ai propri programmi hanno spaziato dal lavoro all'ambiente, dai rifiuti al sociale, dalla sicurezza alla legalità. Durante l'evento inoltre è stato presentato alla città il progetto del poliambulatorio Il Buon Samaritano dove saranno presto erogate prestazioni gratuite per le persone che versano in precarie condizioni economiche. L'incontro di questa sera è legato a due motivazioni sostanzialmente. La prima che concerne in particolare l'iniziativa che l'ente sta promuovendo cioè l'istituzione di un poliambulatorio di prossimità Il Buon Samaritano. Abbiamo desiderato presentare questa iniziativa a tutti coloro che si candidano per guidare la nostra amministrazione non solo per dovuta informazione ma anche per raccogliere eventuali suggerimenti, indicazioni, orientamenti visto che il progetto è in avanzato stato di lavoro però è possibile anche apporre ancora dei correttivi. La seconda ragione sta nel dare l'opportunità a coloro che si candidano alla guida dell'amministrazione vigeliese di far conoscere le ragioni principali della propria candidatura oltre che gli elementi significativi del programma.